Davvero non lo dico per una questione polemica, lo dico per rispondere, cioè perché penso che sia questa ambiguità, che è un'ambiguità sempre più diffusa in Occidente e che nel Medio Oriente diventa addirittura rifiuto al riconoscimento del diritto all'esistenza di Israele ad essere quello che oggi è il principale ostacolo alla soluzione dei due popoli e dei due Stati. Come lei sa l'Italia ha sempre ribadito che il popolo palestinese ha diritto a uno Stato indipendente, sicuro, economicamente prospero, è una posizione che questo Governo ha ribadito banalmente perché è una soluzione giusta, perché è una soluzione necessaria ed è una soluzione sì nell'interesse dei palestinesi ma a nostro avviso anche nell'interesse di Israele e dalla ragione per la quale posso dire che non condivido la posizione recentemente espressa dal Primo Ministro israeliano sulla materia. Dall'altra parte però io spero che si convenga sul fatto che il riconoscimento non può essere richiesto unilateralmente. Vale a dire, spero si convenga sul fatto che la precondizione per qualsiasi ipotesi di trattativa in questa direzione è il riconoscimento da parte degli interlocutori di Israele del diritto all'esistenza dello Stato ebraico e del diritto per i suoi cittadini a vivere in pace e in sicurezza.